La legge è quella che riesce a proteggere i deboli, le vittime, gli ultimi e quindi il problema della giustizia è un problema nazionale ma anche internazionale di cooperazione giudiziaria su tutti i campi. Una giustizia non solo efficace ma anche efficiente. È con questo obiettivo che il 9 giugno si riunirà a Firenze la Global Pound Conference, un'iniziativa mondiale la cui tappa in Toscana fa parte di un ciclo di conferenze in cui nelle principali città del mondo vengono trattati i temi chiave in materia di giustizia. Uno di questi è la facilitazione dello sviluppo degli strumenti per la risoluzione delle controversie commerciali e civili su tutti i livelli, con particolare attenzione a quello internazionale. Certo, creare un organismo internazionale di risoluzione delle controversie che però sia rapido e efficace perché è questo che vogliono coloro che sono coinvolti in queste controversie. È molto più rapido di quelle che sono le giustizie nazionali. L'idea di stare tutti insieme per costruire questo nuovo modello di giustizia a noi ci dà molto senso anche perché lo facciamo su una piazza come Firenze dove con la Presidente del Tribunale troviamo una spiccata volontà di innovazione e di rispondere alle esigenze delle imprese che noi tutti i giorni abbiamo nel ridurre questi tempi che sono oggettivamente impossibili. Ricordiamo che all'interno di questa Global Pound daremo voce a tutti noi e vi chiedo anche a tutti voi di partecipare, imprese, professionisti perché sarà anche un evento divertente e costruttivo perché in tempo reale attraverso un'app chiuderemo le sessioni interagendo con l'iniziativa e tutte queste sessioni andranno a chiudersi a luglio dove ci sarà poi l'output definitivo di questo modello di giustizia che verrà definito.